Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR. Allora, il video di oggi, vi dico già, non sarà niente di che, niente di assurdo, semplicemente mi sono ritrovata questi dieci minuti di tempo e ho deciso di registrare un video, sperando che vi possa rilassare, anche se non era nemmeno un video in programma, però, dato che mi sono arrivate delle cose, sapete, a me piace mostrarvele, mi sono arrivata, ho comprato delle cose, mi sono arrivati finalmente gli ordini, volevo mostrarvele, ho pensato che magari comunque poteva rilassarvi, anche se l'argomento non vi interessa più di tanto, potete comunque trovare il video rilassante. Io spero, insomma, che vi faccia piacere questo video, nonostante appunto sia molto, molto semplice, e niente, ora vi faccio vedere le cose a cui mi sto riferendo. Allora, la prima cosa è qui dentro. Qui dentro c'è un'altra scatola ancora, all'interno della quale troviamo questa qui, che è una cartolina, più o meno. Sì, è una cartolina appunto del brand, fatta così. E poi ci sono anche degli adesivi tipo, sempre della marca, che si chiama Ear Candy, e vendono appunto gioielli e orecchini. E io li ho comprati, vabbè, su Privalia, però comunque Privalia rivende questo brand, rivendeva questo brand. C'è questo adesivo, nero, opaco, appunto con le iniziali della marca. E poi ci sono questi qui, che sono tre sacchettini piccoli piccoli, non so, forse per metterci gioielli, non ho idea, perché sono appunto proprio dei sacchettini piccolini piccolini fatti così. Cerco di farvi capire, ecco, ci sono proprio delle bustine piccoline. Penso che sarebbero perfette per metterci i gioielli dentro, però dato che questi gioielli me li devo tenere per me, non ha realmente senso come cosa. Non lo so, comunque, stavano nella busta. E quindi ve li mostro. Poi, finalmente, ci sono i miei acquisti veri e propri, che sono dentro questo sacchettino carinissimo. Che ho fatto così, dietro c'è anche una scritta. Un po' provo a leggere in inglese, ma il mio inglese è abbastanza penoso. Quindi lasciamo perdere, giusto per farvi capire che cosa c'è scritto. Ho già scritto There are moments in my life that I always remember, not because they were important, but because you were there with me. Dentro ci sono, sembra, questo pacco sembra una scatola dentro una scatola, tipo MadriOSC. Comunque dentro ci sono due bustine trasparenti con gli orcchini veri e propri. Quello per cui sono più esaltata, che è poi il motivo vero per cui ho fatto questo ordine. E' questo, questo qui. Io spero che voi riusciate bene a distinguerlo. Comunque è una L, è un cerchietto piccolino, un orecchino, a cerchio, come già ho quello nel secondo buco, insomma. Con una L, che è la mia iniziale, ovviamente, ve ne rendete conto anche dal nome del canale. E a me piace veramente tanto, a me piace veramente molto. E' piccolino così, ma è normale, perché è un orecchino singolo così piccolo, ovvio. E mi piace veramente tantissimo. Devo capire se sta bene con l'orecchino che ho al secondo buco e in caso metterlo al terzo, però non lo so. In ogni caso l'ho preso perché era un'offerta, su Prevalier lo sapete che sono offerte a tempo limitato. E quindi intanto l'ho preso perché mi piaceva molto. L'altro, invece, non ho intenzione di metterlo subito, però, dato che appunto era un'offerta, l'ho preso per metterlo in caso più avanti. Ed è un altro orecchino, è così piccolo che è difficile pure farlo vedere, far capire com'è fatto. E' un cerchietto piccolo, 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 piccolino, 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 così. Sempre argento. E non so dove lo metterò, quando lo farò, però intanto l'ho comprato perché appunto c'era quest'offerta e mi serviva varie volte, almeno avevo detto di volerne uno. Quindi, avendolo già deciso, poi ho visto che c'era quest'offerta su Prevalier e l'ho preso. E da Your Candy è tutto. Ora, gli altri acquisti vengono da Douglas. Qui ho il pacco. In realtà, non ho preso tante cose. Anzi, ho speso dieci euro circa, però quel giorno c'era la spedizione gratuita, quindi, nonostante l'importo del carrello fosse così basso, ho comunque deciso di fare l'ordine. Ok. Mi hanno dato un po' di campioncini, quindi ora vi faccio vedere anche quelli. Allora. Il primo campioncino è questo qui. Ok. Che praticamente è di Lancome. Un fondotinta di pose. Il problema è che ovviamente quando hanno questi fondotinta va bene se si ha una carnagione nella media più o meno, ma io per esempio con una carnagione più chiara, molto molto chiara, ma praticamente non è che me li posso realmente mettere, non li posso realmente utilizzare perché è totalmente un altro colore. Poi c'è questo qui, sempre altro campioncino, che appunto è molto carino, non l'ho ancora provato, ma sicuramente lo farò. Poi ce ne sono due uguali, che sono questi qui. Cerco di farveli vedere questo qui. Anche questo è un profumo molto famoso, ma che non ho mai avuto. Anche perché, come ho detto in altri video, io non stravedo proprio per i profumi. Me ne piacciono alcuni, poi adesso sono in fissa con uno in particolare che vi ho anche fatto vedere in un altro video. Però, comunque, ci sono tantissimi profumi, anche molto celebri, che non ho mai provato perché ho iniziato a interessarmi da poco, diciamo. Poi, come ultimo cosa, c'è questo qui. Che praticamente è anche qui tipo una cartolina molto bella, tra l'altro, anche a livello di colori, che descrive un profumo nuovo, che vendono adesso da Douglas. E niente, appunto, l'hanno mandata per questo. Ora vi faccio vedere le cose che ho realmente acquistato io. Che sono, prima di tutto, questo qui, che è un eyeliner, It's Easy Black Eyeliner Occhi 10, di Catrice. Eyeliner Occhi 10, super facile da applicare, punta precisa, coloro altra nero in pochi istanti. Il prodotto è depositato all'interno del tappo. Ok, allora, io tolgo questa etichetta qui. Una si può togliere l'altra, è un po' più difficile. Comunque, è semplicemente un eyeliner nero di Catrice, che non ho mai provato. Perché io avevo due eyeliner neri da un sacco di tempo, uno proprio ce l'ho da anni, della Cat Von D, ed è fantastico. Però costa un po', quindi non volevo ricomprarlo uguale. Volevo prima provarne altri. E poi ne avevo anche un altro Kiko, sempre molto buono, che però sta finendo, stanno finendo entrambi contemporaneamente. Quindi mi sono, insomma, rifornita. Questo qui è fatto così. Questo qui adesso vi faccio vedere più o meno come viene. Se riesco è difficile non guardando. Ok, ho sbavato alla fine, ma perché non guardando è oggettivamente abbastanza difficile. Appena si asciuga vi faccio vedere. E nel frattempo vado avanti. Perché ho preso anche un altro prodotto, stessa categoria. Un altro eyeliner nero. Questa volta della Essence. Essence The Lip Eyeliner Waterproof. La confezione è molto diversa rispetto all'altra. E apro e vi faccio vedere anche questo. Provo anche questo qui. Così vi faccio anche un po' un paragone. Allora. Questo è il risultato. Vabbè, quello dell'Essence ancora si sta asciugando. La differenza è tantissima tra i due. Intanto quello della Catrice si espande un po', diciamo, attorno. E poi, quello dell'Essence è molto più nero. Molto più marcato. Proprio forte. Un bel nero forte. Mentre l'altro della Catrice, vedete anche a confronto, si vede che uno è più nero dell'altro. Però comunque sono contentissima di averli presi entrambi, anche perché costavano veramente poco e mi servivano, come ho già spiegato. Poi ho preso dell'Essence altri due prodotti. Questo qui, che non si vede perché lo sfondo è nero, giustamente. E io sono anche vestita di nero, anche qui, giustamente. Però è praticamente uno smalto nero. Semplicissimo. L'ho ricomprato. Io gli smalti neri li compro di varie marche, li vario sempre, perché facendomi le ucchie sempre, li utilizzo molto e finiscono. Oppure si seccano. Oppure li perdo. Dipende. E comunque, l'ho ricomprato. Così. Uno smalto nero, sempre buono averlo a casa. E poi l'altra cosa che cercavo da un sacco di tempo, ma non la stavo trovando, anche questo, l'avevo avuta. Ne avevo avuti altri due, uguali, ma di altre marche. Adesso l'ho trovata anche di Essence. È praticamente una top coat, che rende lo smalto matt. Quindi si mette lo smalto, se poi, che è lucido, sempre. E poi, sopra si applica questo qui, questo prodottino qui. E lo smalto, magicamente. Diventa matt, quindi opaco. E io mi sono trovata benissimo con questo prodotto, però, di altre marche. Spero di trovarmi bene anche con questo. E niente. Tutta la roba che avevo preso, niente di che ve l'avevo detto. Però, nell'introduzione vi ho già spiegato, avevo questo tempo, questa possibilità di registrare. Quindi ho deciso di farlo, anche se magari non è un video particolarmente interessante. E nulla. E io spero in ogni caso che vi abbia rilassato, vi abbia fatto perdere un po' di tempo, insomma. Che vi sia piaciuto. E direi che ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.